Amici di YouTube ben trovati da Marco Liguori, emorragia cerebrale, perde la vita, ha soli 23 anni in questo video, parliamo del fatto di cronaca che ha sconvolto l'Italia intera e prima di farlo vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video, amici di YouTube, un giovane angelo è volato in cielo, davvero troppo presto in questo video parliamo di un fatto di cronaca che ha sconvolto un'intera comunità, quella di Cava Manara in provincia di Pavia, la giovane allenatrice di pallavolo si chiamava Alessia Intiso e ha perso la vita dopo essere stata colta da emorragia cerebrale lo scorso sabato e dopo un ricovero di tre giorni in ospedale la giovane allenatrice di pallavolo ci lascia a soli 23 anni la notizia della scomparsa di Alessia è arrivata poco fa e il secondo me di Marco Liguori fa le più sentite condoglianze alla famiglia di Alessia Intiso scomparsa nelle scorse ore amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video